Sono qui in compagnia di Franco Bonera, direttore di Visto. Direttore, innanzitutto mi devo complimentare con lei perché grazie alla sua direzione Visto ha incrementato la sua giratura. Che cosa ha innovato appunto nella rivista Vista? Abbiamo molto puntato sui personaggi dei reality perché abbiamo capito che ai nostri lettori piacciono e piacciono soprattutto le storie d'amore, le coppie che si formano e stasera siamo qua tutti per festeggiarle insieme e festeggiare anche Visto e il suo successo. Come vengono elette queste coppie? Di che coppie ha Visto? Abbiamo chiesto ai lettori da tre mesi di votare la coppia che secondo loro è quella che quest'anno li ha emozionati di più e stasera vedremo chi è. Grazie direttore. Grazie a voi.